Cadoneghe si sono presentati negli uffici della polizia locale dell'Unione del Medio Brenta insultando l'agente di guardia. Protagonisti della vicenda una decina di genitori che hanno deciso di presentarsi in massa dai vigili urbani per ottenere spiegazioni. Alcuni dei loro figli erano stati richiamati e allontanati da un agente intervenuto dopo una segnalazione per gli schiamazzi avvenuti in strada. Lo scopo della protesta sarebbe stato quello di conoscere l'identità dell'agente e del cittadino che aveva segnalato il disturbo. Il sindacato Will definisce l'episodio inaccettabile. Dopo l'aggressione verbale sono intervenuti altri vigili e la situazione è tornata alla calma. Ma secondo Paolo Manfrin, dirigente della Will, è necessaria al più presto una ristrutturazione dei locali del comando, inadeguati e privi di sicurezza.